ebbene inizia a metà dell'opera è subito con un salitone buongiorno, noi siamo alla pazzia di grande ragazzi, spettacolare, un posto bellissimo quando giri con Luigi è una garanzia aspettiamo a finire il giro ragazzi l'ho chiesto espressamente, il portail sempre sempre grazie a tutti grazie a tutti ragazzi le giostre, le giostre grazie a tutti 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 ci stanno facendo strada grazie a tutti 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 Grazie per la visione!